È giovedì prossimo, in tarda mattinata, al termine dei vari collegi dei docenti, che si saprà con certezza la data d'inizio delle lezioni nei vari istituti scolastici della città. Alcune scuole hanno già un loro orientamento, ma si aspetta l'ok dell'organo collegiale. In Sicilia, il suono della campanella per il rientro tra i banchi è fissato per mercoledì 14 settembre, ma questa negli ultimi anni è diventata ormai solo una data di riferimento che cambia da istituto a istituto per via dell'autonomia scolastica. Ad iniziare per primi a sciacca saranno gli alunni del Don Michele Arena, del liceo classico Tommaso Fazzello e dell'artistico Bonachia. Per loro la campana dovrebbe suonare il 9 settembre. Lunedì 12, il rientro tra i banchi dovrebbe toccare invece agli alunni degli istituti comprensivi Mariano Rossi, Dante Lighieri e Scuola Media Ignazio Scaturro e della Scuola Media Agostino Inveges. Per il primo circolo Giovanni XXIII, il secondo circolo Sant'Agostino e gli istituti superiori Amato Vetrano e lo scientifico Enrico Fermi, se ne saprà di più giovedì prossimo, anche se l'orientamento è quello di anticipare rispetto alla data del 14 settembre, probabilmente al 12. L'obiettivo ormai condiviso da tutti gli istituti scolastici è quello di anticipare l'inizio a settembre per poter avere a disposizione qualche giorno di vacanze in più da spalmare durante l'anno scolastico. Al primo circolo Giovanni XXIII intanto si attende la nomina del nuovo dirigente scolastico che sostituirà l'ex dirigente Gabriella Scaturro che ha assunto un altro incarico. La novità di quest'anno è per gli alunni della Scuola Media dell'istituto comprensivo Mariano Rossi, ai quali verrà estesa la settimana corta, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e niente scuola il sabato. Se ne saprà di più giovedì prossimo, quando a scuola rientreranno intanto gli insegnanti, anche se quelle di quest'anno per personale amministrativo e presidi sono state vacanze movimentate dalle varie nomine e dalle assegnazioni frutto del nuovo piano di assunzione nel mondo della scuola. E quello che si annuncia per gli insegnanti al primo incarico e quelli non ancora di ruolo sarà sicuramente un settembre caldo e con la valigia in mano.